bene eccoci siamo una puntata del salotto monogatari anzi in realtà siamo all'anti salotto come i nostri fedelissimi ascoltatori soprattutto quelli che odiano il cinema perché ce ne sarà qualcuno e noi vogliamo acchiapparlo come sanno esiste l'anti salotto da pochissimo abbiamo fatto una puntata sulla stand up comedy in cui io e simone contro la dittatura degli altri ci proibiamo ci auto vietiamo di parlare di cinema e anzi se scapperà fuori qualche riferimento cinematografico ci sarà subito un allarme questo qui che ci autoregarci redarguiremo a vicenda ok e oggi vogliamo parlare di fumetto siamo due grandi appassionati e tra l'altro poi insomma e per evitare di parlare sempre di come fanno molti su internet di fumetti marvel o cosa del genere noi ci siamo rivolti a topolino anzi a paperino e in particolare a i rapporti che intercorrono tra il poema omerico e paperopoli e cioè due famosissime parodie dell'iliade e dell'odissea la paperiade e la paperodissea italiane perché sceneggiate da guido martina entrambe è stato un grandissimo sceneggiatore di fumetti di topolino ed è l'autore dell'inferno di topolino che chiunque non l'avesse è letto corri a cercarlo sul web o in edicola perché è un capolavoro con il commento la didascalia scritto in terzine tantesche e topolino e pippo che fanno questo viaggio nell'inferno e incontrano anche paperino tra l'altro e guido martin attivo nella paperiade nel 1959 uscita in tre puntate su topolino con i disegni di luciano bottaro per me molto belli molto squadrati molto così geometrici e la papero di stea due anni più tardi in due puntate nel 61 con i disegni di pier lorenzo de vita che personalmente mi piacciono un po meno poi sentirò sentiremo anche che dice simone e che però se non sbaglio sono molto sullo stile più di topolinea che di paperopoli cede vita mi sa che ha sceneggiata scusate disegnato parecchie avventure di quelle più gialle di topolino quelle contro macchia nera contro i vari con manetta basettoni tutta quella serie di che in italia andava molto perché in italia c'è una grande traduzione tradizione di fumettisti della disney che spesso ci scordiamo e quindi niente paperiade e paperodissea sono entrambe due parodie non che non seguono pedissequamente l'opera ma che attuano il rovesciamento parodico su diciamo alcuni topoi abbastanza famosi delle due opere addirittura la paperodissea mischia l'odissea di omero con il vecchio west perché ambientato in un in un west in cui appunto ulisse cioè paperino non combatte contro i troiani ma combatte contro gli nativi americani pelli rossa e quindi ci sono tutta una serie di di rovesciamenti parodici anche proprio di traduzioni intersemiotiche potremmo dire in cui si fonde l'immaginario europeo che quello che viene dalla nostra tradizione di letteratura occidentale con quello americano del vecchio west sempre tutto filtrato da questa ironia molto molto italiana tipica di guido martina che peraltro non so se simo tu le notati fa anche dei delle battute oltre a fare apparecchie battute meta soprattutto nella paperi ad e dove c'è no qui qua qua che quasi commentano lo scorrere degli eventi e però fanno anche delle battute sull'attualità c'è a un certo punto zio paperone dice lascia il raddoppia e qui qua dicono anche qui bisogna parlare di lascia un raddoppia che nei anni 50 era il quiz televisivo più famoso in italia condotto no mai buongiorno e quindi era una una ironia contemporanea no non so se avevi notato questo dettaglio che mi è venuto in mente in questo momento sì assolutamente ma per rimanere sempre in tema ci sono anche molti riferimenti economici quindi oltre al fatto che appunto sia ambientato a paperopoli dei riferimenti insomma un po più contemporanei ci sono per esempio quando nella paperiade vanno appunto nell'isola d'olio poi ci torniamo su questo e incontrano appunto questa tribù la tribù gli dice noi facciamo un baratto e poi la tribù invece esperta di credito o debito non ricordo perché appunto gli diceva bene allora aspetto la spedizione delle perline colorate e quindi ci sono un po questi riferimenti e all'epoca e anche adesso sono abbastanza attuali insomma non ci si aspetta di trovarli qui dentro in loro quando arrivano la tribù gli dice tipo perché in realtà anche nella paperia ci sono appunto i selvaggi perché loro arrivano sull'isola di olio e questi questi selvaggi abbastanza furbi e dicono sì noi loro loro ce l'abbiamo sono girate le perline che non valgono niente noi non non possiamo scambiarlo quindi c'è anche questa ironia sul colonialismo diciamo così però adesso di ironia meta mi è venuto in mente anche che quando loro devono cercare l'isola di olio che sarebbe ilio sulla sulla mappa entrano in biblioteca e biblioteca c'è un simpatico signore paffuto che sta leggendo dal maracco di topolino e che gli chiede di fare silenzio quindi diciamo che la paperia del molto più autoconsapevole mentre la paper odissea secondo me più storia tradizionale e però ha delle chicche qua e là ad esempio appunto questo questa ibridazione con l'immaginario del vecchio west e poi anche alcuni rovesciamenti per me straordinari a parte quelli espliciti all'inizio perché all'inizio c'è la didascalie che cantano le gesta di paperino e ovviamente le didascalie dicono cose eroiche e vediamo paperino tipo fuggire o capitombolare a terra quindi c'è già questa questa ironia e poi mi piace molto il fatto che invece di esserci il cavallo di troia che nella paperiade ha un'altra soluzione ancora dopo ne parliamo nella paper odissea paperino in qualche maniera sconfigge pelli rossa perché entra nel loro territorio inseguito dalle api e quindi gli butta le api addosso quindi mentre nella nell'odissea e ulisse diciamo come dire governa un animale finto per riuscire a entrare nel territorio e paperino si fa governare da dagli animali veri e quindi vince per puro caso no è anche questo è un rovesciamento parodico cioè alla fine la parodia tecnicamente questa roba qui non è solo la parodia pedisse qua un po' alla scary movie e anche proprio prende un immaginario rovesciare alcune questioni quindi per esempio nella paperiade il ratto di elena c'è c'è il ratto della dama che però è una dama nel senso di scacchiera di zio paperone e paperino pensa che la dama si è riferito a paperina e invece è un oggetto e quindi poi quando scopre l'inganno si ritira nella tenda come fa chile nell'iliade non vuole più combattere cioè sono tutti questi questi rovesciamenti che funzionano anche in un testo che è ambientato non nell'antica grecia c'è i riferimenti non sono pedisse qui no non sono uno a uno sono bionivoci in maniera perfetta no sì anche la tessitura di penelope che in entrambi cioè sia nell'opera originale che qui un elemento di salvezza però per esempio qui il maione di paperina e non sbaglio sì è strumento di salvezza nel senso che costringe gastone perché non riesce più a combattere quindi c'è comunque questo elemento di rovesciamento come dicevi tu per tempo un'altra cosa mi è venuta in mente nella paper odissea è che è il motivo per cui avviene la guerra con i pelli rossa perché hanno rubato un bufalo che vale 20 dollari zio paperone cioè dieci anni di guerra per 20 dollari e lui alla fine si fa pure pagare con gli interessi cioè a parte la cosa meravigliosa che zio paperone è il personaggio migliore mai inventato nella storia sono proprio faccio questa affermazione perché mi ha sempre fatto molto ridere e però è meravigliosa questo rovesciamento per cui le imprese eroiche sono in realtà dei mutano dei motivi economici e questo vale anche per la dama della paperia perché una dama magica che moltiplica il riso e paperone quindi può diventare il può avere il monopolio della produzione di riso quindi un altro procedimento tipicissimo della parodia proprio tradizionalmente ci si fa vedere anche le parodie omeriche che già esistevano all'epoca è proprio quella di prendere un motivo eroico e rovesciarlo in un motivo per esempio economico cioè rovesciare l'alto nel basso sì sì anche lì anche l'insediamento dei proci alla corte di ulisse in questo caso è appunto la fattoria di paperino ha un motivo strettamente economico cioè paperino deve pagare dei debiti e lui aveva compiuto evasione fiscale elusione fiscale correttamente perché si era intestato la fattoria perché essendo combattente avrebbe avuto appunto uno scarico completo delle tasse non avrebbe dovuto pagarle sulla fattoria nonostante nella fattoria ci fosse paperina ma poi tra l'altro il fatto che usino come spediente comico l'evasione fiscale in un fumetto presumibilmente per bambini è veramente molto è una cosa veramente molto molto simpatica e un'altra cosa che mi che mi diventa una cosa che volevo segnalare è che c'è pippo ora questa cosa può sembrare strana perché pippo non appare c'è pippo stato polinia non a paperopoli però è simpatico che in realtà i personaggi delle due prodie nonostante siano molto diversi siano gli stessi cioè c'è zio paperoni archimede paperina castone il cattivo in entrambi e poi c'è pippo che fa il veggente che nell'odissea può essere nestore o un personaggio del genere nella figlia dei non solo la macacirce in realtà nell'odissea c'è archimede che fa questa cosa qui mi sa che tocca partire con l'allarme e perché prima anche fuori onda e diciamo nell'odissea c'è questo momento meta letterario in cui durante la telemachia telemaco non mi ricordo in quell'occasione comunque ascolta un poeta un cantore che canta le gesta di suo padre ulisse e qui i telemachi che sono qui qua qua coinvolgono archimede che proietta un filmato con le gesta di paperino e quindi grazie simone e quindi chiaramente c'è il cinema c'è l'espediente cinematografico che sostituisce il la poesia classica per cui anche questo è un elemento di rovesciamento parodico cioè quando tu prendi un tema antico e lo innesti in qualcosa di moderno che non è necessariamente basso però comunque percepito come più basso come straniante anche perché c'è questa questa proiezione di fantasie del passato non è scientificamente spiegata quindi diventa proprio una cosa da da negromanti no in qualche maniera sì c'è sempre un po il tema appunto della tecnologia che sostituisce la magia però la magia comunque permane perché come dicevi anche tu c'è pippo che prende il ruolo di cassandra se non sbaglio dovrebbe sì forse nell'iliate si prende il ruolo di cassandra e appunto quando si incontra con con la tribù dei selvaggi nella terra di olio si scambiano dei saluti lui e il capo tribù perché dicono siamo entrambi stregoni perché pippo si mette questa benda data in regalo dal suo bisnonno e riesce a vedere il futuro e quindi c'è anche questo elemento nonostante poi ci sia il personaggio di archimede che invece è super tecnologico ed è colui che appunto come dicevi tu crea questa questa specie di cinematografo vero e proprio di un altro un'altra caratteristica secondo me è anche cioè le corrispondenze caratteriali tra paperino e achille nella paperi ade cioè è chiaro che se tu vuoi fare una parodia della dell'iliade che è famosa per l'ira di achille no è proprio viene nominata nei primi versi non puoi che scegliere il paperino che è un personaggio noto per il suo carattere diciamo fumantino e in effetti l'ira di paperino si è uno dei motivi per cui a un certo punto si arena la storia esattamente come avviene nella e a quel punto poi quando devono in qualche maniera averla vinta il zio paperone ovviamente corrompe paperino no più che corrompe però lo non minaccia sempre con motivi economici e quindi poi avvengono tutta una serie di di rivolgimenti e anche qui c'è l'inganno del cavallo che a questo punto è un cavallo finto fatto di pezza con dentro paperino e pippo e con cui loro riescono a rientrare all'interno della della fortezza in cui ha nascosto gastone perché poi un'altra cosa che non abbiamo detto è che gastone rapisce questa dama magica e questa dama magica in realtà funziona come la famosa scacchiera di una leggenda credo araba in cui appunto il il contadino salva la vita al re e il re dice cosa vuoi in cambio lui dice vuoi un chicco di riso che diciamo per ogni per ogni casella di una scacchiera nella prima casella 1 nella seconda 2 nella terza 4 eccetera eccetera quindi le potenze di 2 avendo la scacchiera 64 caselle 2 alla 64 un numero enorme più di quel più del riso che si è prodotto mai la storia dell'umanità credo in tutto e quindi diventa una richiesta impossibile per cui ci sono anche tutti questi paradossi matematici buttati lì a caso con gastone che moltiplica il riso a un certo punto è invaso dal riso quindi dei momenti veramente veramente assurdi e nell'odissea invece ci sono le arance con come cibo diciamo cattivo le arance che coprono un po l'episodio dei mangiatori di loto dell'odissea è un po quello di idee di eulo il re dei venti perché allora cominciano a starnutire e poi la per colpa di queste arance magiche e la nave va in bonaccia quindi ci sono un sacco di elementi veramente pizarri ma questo questo unione delle situazioni si ripercuote anche sui personaggi tu giustamente dicevi paperino rappresenta l'ira di achille però in realtà da un punto di vista storico prettamente narrativo rappresenta menelao perché gastone sarebbe pari che avrebbe rapito elena poi in realtà elena paperina non è stata rapita ma stava semplicemente aspettando che paperino andasse all'appuntamento prefissato quindi sì c'è diciamo questa confusione che potremmo chiamarla da un punto di vista narrativo però rientra tutto in quel meccanismo parotico di cui abbiamo parlato fino ad ora e quindi funziona io direi che rappresenta menelao e achille e anche ulisse perché l'inganno nel cavallo lo fa lui alla fine con pippo quindi c'è questo elemento di sicuro non si capisce perché sbuchi capitano uncino però questo è geniale questo è geniale allora questa cosa di capitano uncino mi è venuta mi ha fatto molto ridere perché anche questa secondo me è una cosa tipica di guido martina perché capitano uncino anche il grillo parlante sono anche nell'inferno di topolino nella divina commedia cioè guido martina questa cosa in italia c'è una separazione netta nei fumetti della della disney tra le avventure di topolini e le avventure di paperopoli guido martina aveva questa cosa di mischiare appunto personaggi di uno personaggi dell'altro in più metterci dentro anche i classici quelli diciamo vabbè devo dire la parola cinematografici e quindi appunto capitano uncino il grillo parlante eccetera eccetera che è una cosa stranissima però nella scena di capitano uncino loro sono sulla nave e zio paperone deve buttare giù ciò che ha di più caro e questo ovviamente un richiamo a ifigenia quindi zio paperone chiaramente agamennone che appunto deve sacrificare la figlia per poter andare avanti nel percorso ovviamente zio paperone non butta ciò che ha di più caro che sarebbe il denaro ma si pre piuttosto si butta lui sulla scialuppa e riesce a evadere dalla dalla marca quindi insomma zio paperone è abbastanza chiaro che sia agamennone in qualche in qualche modo e gastone sia paride ecco però paperino a vari a vari ruoli e questo tra l'altro mi fa anche riflettere sul fatto che perché ci sarebbe qualcosa da dire anche più in generale non so quanto tu sia un lettore di topolino però io credo che la maggior fortuna che ha acquisito nei decenni paperino rispetto a topolino che io credo sia evidente anche a livello proprio di di successo di pubblico se proprio dovuto al fatto che paperino un personaggio molto più malleabile cioè effettivamente ci puoi costruire intorno non so poi per quale motivo preciso delle storie in cui può avere veramente tante funzioni contemporaneamente e tenere la storia in piedi cioè paperino tiene entrambe le storie in piedi gli altri personaggi sono molto più di contorno far ridere abbastanza dio paperone però comunque è tutto molto centrato su la gamma espressiva che a lui che appunto è permaloso però è anche pauroso però è anche ridicolmente coraggioso però è anche un giocatore d'azzardo è uno sfarfallone è un imprudente insomma ha tutta questa gamma di caratteristiche negative in fondo e che quindi ci stanno benissimo all'interno di all'interno delle parodie per esempio nel volume che hai tu io adesso ho un altro volume però nel volume che hai tu c'è anche la storia di topolino e la guerra di troia no e che io ho su un altro volume ancora e che è una semplice una di quelle tante storie in cui topolino e pippo tornano indietro nel tempo con la macchina del tempo che gli costruiscono altri personaggi di cui non ricordo il nome ed è una storia molto bella vincente eccetera eccetera però appunto topolino non può che essere se stesso trasportato in un altro contesto invece paperino è proprio una maschera secondo me non so come la vedi tu questa cosa però ci sto rilettendo in questo momento si sono d'accordo io credo che topolino negli anni sia al cinema buono e al cinema che fuori dal cinema sia stato sia stato appunto codificato per essere proprio diciamo la riete con cui entrare nel nel cuore nella mente dei bambini e quindi non possa di molto poi scostarsi da da quell'idea specifica io l'unica cosa che ti posso dire da videogiocatore e che c'è stato appunto un un videogioco anzi una serie che si chiama appunto kingdom hearts che riprende molto dai mondi disney perché una specie di multiverso in cui devi entrare nei vari mondi disney e salvarli da questa minaccia specifica in cui in realtà poi topolino paperino e pippo e anche qui ritorna il fatto che tu dici in questi qua non c'è topolino però ci sono sia paperino che pippo infatti nel gioco i tuoi aiutanti veri e propri sono paperino e pippo perché topolino sta appunto nel castello perché lui è il re eccetera eccetera e quindi ritorniamo anche a quest'immagine diciamo con il fumetto esattamente si sono più che altro loro esatto in cui appunto sono sono dei guerrieri però in realtà topolino è sempre quello lì cioè anche all'interno di una codifica molto più videoludica in cui ci dovrebbero essere dei combattimenti eccetera topolino è sempre segue sempre quell'immagine invece loro comunque sono molto più plastici come dicevi l'altro originariamente non era così era un personaggio molto malleabile e infatti nei qui vabbè mi tocca non avevo previsto però nei film mi veni in mente fantasia l'apprendista stregone oppure anche in bongo e tre avventurieri quando ci sono topolino paperino e pippo dentro la parodia di jack e il fagiolo magico topolino soprattutto per come l'aveva disegnato e pensato inizialmente walt disney è un personaggio molto molto malleabile un segno a posto nei fumetti proprio codificato come un personaggio eroico in storie gialle in storie spionistiche e secondo me in effetti funziona in quel campo lì però è molto meno malleabile e mi viene in mente non so se tu li hai mai letti ma te li consiglio alla grandissima la disney italiana si è anche cimentata nei fumetti in una parodia delle soppopera una cosa geniale e l'ha fatto se non sbaglio silvia ziche e ne fece una a paperopoli che si chiamava il papero del mistero dove praticamente c'è zio paperone che riunisce tutta la famiglia li costringe a recitare in una soppopera e ci sono gli episodi della soppopera e il backstage a puntate ma è poi lunghissima tipo 50 puntate perché appunto deve parodiare la lunghezza delle soppopere ed è straordinariamente perfetta c'è comunque questa parodia di beautiful dove i personaggi di paperopoli sono straordinari ne ha fatta poi una versione con topolino il topo cossal che è una parodia delle serie sci-fi è un mix tra star wars e star trek considera che c'è gamba di legno che c'ha il casco di dart vader è molto carina in alcuni punti però è molto meno efficace infatti l'hanno fatta durare di meno e soprattutto topolino viene completamente stravolto perché in questa in questa soppopera topolino fa la figura del cretino e viene completamente stravolto rispetto all'immagine ormai codificata soprattutto sui albi italiani e quindi stona un po cioè per divertirti devi uscire un po da quell'idea lì invece il papero dei mistero è perfetto cioè i personaggi paperopoli sono terribilmente più più malleabili e d'altronde secondo me per andare sui classici per un personaggio di topolino è impensabile fare il lavoro di rifondazione mitica che ha fatto don rosa per zio paperone ad esempio cioè secondo me è davvero impensabile non puoi fare quella roba lì su un personaggio di topolino per come si sono codificati col tempo se non stravolgendo troppo tutta la la continuity in qualche maniera no una continuity che ha più coerenza era questo il succo della della mia argomentazione mentre paperopoli appunto una specie di di caos carnevalesco in qualche maniera i caratteri sono fissi ma le vicende sono molto più più elastica adesso speriamo che non ci sia qualche fan della disney che ci che ci infama nei commenti o come succede più spesso in privato perché ci addentriamo sui territori non nostri però insomma l'antisalotto è anche questo una rivoluzione interna